Questa per alcuni aspetti è una vicenda che fa luce sulla situazione della Regione Piemonte. Era un provvedimento del 2005-2006, quando veniva assegnato 4 milioni e 500 mila euro alla Regione Allaipo per il rifacimento dell'erginatura nel Comune di Pallanzeno. Poi parte di quelle risorse sono sparite, perché la Regione Piemonte le ha destinate a tappare buchi di bilancio, creando però delle voraggini rappresentate dal fatto che progetti urgenti a favore di comunità locali venivano messi sostanzialmente in naftalina. Il lavoro che stiamo facendo, di cui questo è un piccolo pezzo ma significativo e importante per il Verbano Cusiossola, è quello di assolvere tutte le obbligazioni che la Regione aveva contratto nel tempo. E quindi la determina di fine dicembre fatta dalla Direzione di Opere Pubbliche e Difesa Suolo della Regione Piemonte va in questa direzione. Non c'è più l'intervento di 4 milioni e mezzo sull'erginatura di Pallanzeno, ma sono stati previsti per lo stesso importo, quindi l'importo non è cambiato, tre interventi sempre in questa zona del Toce. Il rifacimento del Ponte dell'Amazona e un tratto di erginatura in Comune di Pallanzeno e in Comune di Bologna. Abbiamo posto anche i comuni, ma di questo noi non abbiamo preoccupazioni, perché i comuni stanno dimostrando di avere una capacità di intervento significativa e positiva. Il fatto è che queste opere devono essere completate entro il 2019. E questo, assieme alle arginature che riguardano la bonifica del sito Exenichem di Pieve Ergonte, creeranno le condizioni di protezione di questi territori e di queste comunità rispetto a problematiche che purtroppo nel corso di questi anni abbiamo vissuto. Grazie.